Desidero anzitutto ringraziare il Presidente Pavolopoulos non soltanto per l'accoglienza che ci ha riservato, ma ancora di più per l'efficacia e la sagaccia con cui ho organizzato questo incontro e questo confronto, scegliendo come base per affrontare due temi in cui si è articolato il nostro colloquio, scegliendo come base la solidarietà che in realtà è la ragione sociale dell'Unione Europea. Abbiamo parlato, come siete informati bene, di numerosi argomenti, parlandone sempre e costantemente con l'intenzione di rendere l'Unione Europea soggetto autorevole e ascoltato nella comunità internazionale, sempre più contrassegnata da grandi soggetti, di grandi dimensioni. Tutto questo è espresso nella dichiarazione di Atene e io non potrei dire meglio di quello che la dichiarazione esprime e a quella dichiarazione e faccio riferimento con piena adezione.